con questo ultimo pacchetto di macchine sono arrivato a 40 macchine fort continuo a comprare forte perché le prime dieci macchine ormai hanno cinque anni col mio lavoro di cavacantiere non mi stanno dando nessun tipo di problema sono macchine molto efficiente per il lavoro che facciamo noi e non stiamo avendo nessun problema né a livello di sospensioni e quant'altro poi c'è fin è un'azienda veramente importante dove comunque ti seguono in tutto e per tutto qualsiasi problema si riesce a risolvere il prima possibile poi comunque il rapporto con l'amministratore delegato stefano albarosa comunque è una cosa molto importante per me e quindi questo mi ha convinto ma comunque soprattutto il folk perché è un bel campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti